uscite gli starter io ho preso sin da quel come da tradizione danni ha preso totodile ah godo godo ma che piccolo tart ma giove dov'è e beh il mio cammina molto lento perché il mio cammina così lento che bello scorbanni però ragazzi ma vi immaginate quando il tarting di resta si evolverà in torterra e sarà comunque più piccolo del mio totodile adesso allora le cose le abbiamo le abbiamo spiegate direi che la prima cosa da fare di importante sarebbe cercare un centro pokemon perché come sapete i pokemon selvatici ci attaccano e ci manderanno ko sicuramente quindi cerchiamo un centro pokemon ci stabiliamo inizialmente lì ci iniziamo a craftare le prime pokeball eccetera bravissimo axo anzi io ho già pensato a un piano perfetto ed efficace per far andare tutto come deve andare ovvero che tu lavori e io mi prendo tutto il merito come sempre la gloria proprio un favore ti avevo chiesto axo sarei entrato in questa serie ma i cosplayer non li volevo nella mappa ma infatti stavo guardando cioè i cosplayer no i cosplayer non li voglio non li voglio ha un vestito di sablai comunque no no resta si sta no resta si sta luttando il pokemarket e vabbè resta non te l'ho detto adesso è una manhunt questa quindi cosa mi sono luttato io mi sono luttato 10 pokeball 21 megaball 2 retable 6 lunaball io l'infermiera joy mi sono luttato no adesso vedrete che bello il cielo quando diventa notte ragazzi è un vero spettacolo è vero darti puoi mettere qua per favore è blu guardate le stelle cadenti adesso raga eccole che spettacolo ma qua c'è croconau qua c'è croconau dai lo catturo è di est quello no no è selvatico ah non è di est ok è meglio ancora ho una retable il toto dail che ha la stessa grandezza delle mie emorroid no 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 ovviamente il ball play dov'è finito il mio scorbaglio ha appena preso l'ho preso l'ho preso godo un pokemon al 24 e voi no ho preso croconau raga ma io c'ho squirtle una carota che palla let's go ragazzi beh io seguo Dani Dani andiamo andiamo all'esplorazione assieme così prendiamo anche delle ghicocche che ci serviranno da ripiantare ma sei nudo guarda che spettacolo Dani bellissima questa questa bellissima ma se cercassimo un posto dove stabilirci così siamo tutti d'accordo su dove andare dentro questa foresta qua siccome c'è la tricapitator come mod che quindi permette di abbattere un albero completamente utilizzando un'ascia bene potremmo potremmo costruirci perché è veramente bello come biome ovviamente così almeno sfruttiamo a un biome della biome soplenti b un bel posto carino vediamo se è grande mi addentro in caso vi mando le coordinate io sto zappando qua beh io qua onestamente un pensiero ce lo farei per stabilirmi qua io forse ok io ho trovato la zona dove voglio stare ragazzi buona fortuna per voi è arrivato certo la zona dove vuoi stare ah ci sono le stagioni ecco cosa mi sono dimenticato di dire dovremmo essere in primavera adesso credo e infatti vedete che i semefio crescono diversamente in base alle stagioni ho messo che ogni tot giorni di minecraft cambia la stagione quindi passeremo adesso siamo in mid spring poi diventerà late spring early summer mid summer late summer e cambia i colori della vegetazione le precipitazioni e tutto quanto in base alla stagione già sto in caverna ma esploriamo Axo quelle là belle grosse eh si 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 io adesso ne vorrei cercare una di quelle così ci iniziamo a fare anche i materiali necessari per craftare le balle eccetera quelle belle grosse cospicue quelle belle grosse proprio che ha sapori grasse palle io ho una copipasta sulle palle vai la leggerò vai sei proprio sicuro che sia necessario ma credo proprio di sé sì io sono d'accordo allora no non ho tirato giù tutto questo albero vabbè vai dicevi ha dei coglioni giganti mi chiamo davvero degli imponenti coglionazzi non è un eventuale no 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 basta di queste brutte parole basta due sole vieni qua va che bello, che bella roba vedi che sono tutta a distanza di un blocco e siamo gli emarginati a scalare puoi scalare yes yes tempo di trovare ma ragazzi ho trovato una vena da otto per di più possiamo dire che ha un gran culone davvero un bel paio di grandi chiappone un cittinato che dà notevole rotondità non c'è che dire una gran colpa di pilute di marmo da esporto al museo non andrò a mentire è un fontoschino di prima categoria con due belle peschimature da prendere lasciatemelo dire a sonore scuracciata eccola ragazzi abbiamo trovato una delle caverne sommerse e guardate un po' cosa c'è lì siamo pure noi più o meno dove siete voi pesco qua c'è il glitch della torcia ha finito la pixel Dani tu ovviamente sai cos'è il glitch della torcia vero Dani? ovviamente e ce lo potresti spiegare il glitch della torcia no non posso adesso sto facendo la caverna e guardate che razza di caverna spettacolare abbiamo trovato sembra la 1.17 bellissimo no non c'è il nuoto siamo in 1.12 purtroppo sì 63 l'altezza vabbè sì però raga io non lo aspetto che spettacolo dai lì ma venici a prendere scusami ma vi devo venire a prendere ma che incapaci guardate è anche altissimo non siete capaci a leggere la minimappa oh raga che spettacolo no no zero ok è bel tempo fuori che spettacolo io vado per i cazzi miei va bene mazza che bello ragazzi io ero all'ingresso vabbè stavo venendo a prendere vabbè scaviamo come direbbe l'ore dei peepholder spettacolare ragazzi però bellissimo ragazzi cosa dite costruiamo qua magari questo è un posto con una vista sono su una spiaggia tra l'altro con il tramonto ma sensazionale ma vi giuro sensazionale e qua ci sarà da fare un po' di terraforming perché è tutto sfondato qua dove c'è sta grotta si vedete sei preso la zona buona che si sta morbendo affianca alla zona tua sta la merda si da qui si è voluto inquilava let's go bello bello adesso che i pokemon sono tutti tondeggianti l'ultima volta che mi avete visto sulla pixelmon erano 4 pixel letteralmente i pokemon ma cristo ma guarda proprio i pillar mi hai lasciato io ho già capito che finisce a botte sta serie ovviamente in game tranquillo 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 adesso si spacca ti prego axo smettila che mi fa ridere a dove così wow nico mi sembra di essere proprio nel 2011 oh fossi lunghia fossi lunghia let's go let's go e cucchiaio torto quello vuoi fare Armando ehm si mi pare proprio di si mi pare che sia proprio quello di Armando si si e andiamo a rivenderci anche l'anima cosa compriamo ragazzi compriamo già le ultra ball così abbiamo più probabilità di di catturare un bel volantone anzi le velox ball forse le velox ball così le tiriamo subito questo vola la cosa che ha detto funziona solo con con l'accetta di qualche altro materiale no dovrebbe funzionare con più o meno tutte è l'accetta di legno però vi taglio un blocco alla volta let's go che hai fatto? preso vibrava no po' minchia zio bello si gode si gode si gode si gode vibrava e si vola e adesso sfidiamo un altro vibrava col mio nuovo vibrava umbreon eh questo lo voglio questo lo voglio madonna sdoppiatore ma sdrumato umbreon bellissimo bellissimo ho preso umbreon ragazzi al 47 bellissimo eccoci evoluzione di vibrava ve la faccio vedere in grand'angolo bello hai trovato il disco i dischi quelli di genesec ah si ah quelli ci si trovano altri diamanti ma nemmeno me lo fa rompere oh oh col piccone magari e rip piastra d'allumino oh no sono ancora glitchati i voli dei pokemon ah che bello comunque io flygon me lo ricordo ancora col modello cursatissimo oh madonna dove sono caduto col modello cursatissimo di allora non vi servono più le porte bello che catture che abbiamo fatto oggi let's go che catture 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 che